Le nuove avventure del commissario a quattro zampe più famoso del cinema, il Cane Rex, saranno girate in Puglia grazie al sostegno di Puglia Promozione della Puglia Film Commission. Rex 7 prevede 12 episodi in onda il prossimo autunno su Rai 2. In occasione dell'inizio delle riprese nell'area check-in dell'aeroporto di Bari, venerdì ore 11, conferenza stampa. Oltre ai produttori saranno presenti i registi Manetti Brossi, il protagonista Francesco Arca e naturalmente il pastore tedesco Rex.